Abbiamo portato questo approccio, questo stesso livello di concretezza anche in ambito G7. Come sapete l'Italia quest'anno ha la responsabilità di guidare il forum. Al vertice di Borgo Ignazia abbiamo istituito con la Banca Africana di Sviluppo e la Banca Mondiale alcuni strumenti finanziari molto innovativi per sviluppare strategie di coinvestimento in Africa e abbiamo avviato sinergie strutturate e attività di raccordo tra il Piano Mattei e le iniziative che già esistono particolarmente sul tema degli investimenti in infrastrutture e che sono previste dai nostri partner. Penso ad esempio alla decisione di contribuire con un impegno finanziario che può arrivare fino a 320 milioni di euro a uno dei progetti della Partnership for Global Infrastructures Investment che è la realizzazione del corridoio di Lobito, il sistema infrastrutturale che collegherà l'Angola allo Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo. Parliamo di una infrastruttura imponente che coinvolge numerosi settori e che apre ad opportunità anche per le imprese italiane.